Ho scelto di rappresentare Venezia attraverso quegli elementi che sono i simboli stessi di questa città, l'acqua, i ponti, le gondole e la nebbia, la nebbia che nella nostra produzione è sempre presente. La gioconda è già in amico con Enzo Grimaldo e Enzo non ha nessun sentimento per lui. Ha stato scelto e ora è venuto tornando per riuscire a trovare il suo vero amico, Laura, e per la riuscire. E c'è questa persona orribile che lei ha ribrezzo per lui, che vuole violentarla, quindi dice perché vivere, perché comunque per lei le due cose più importanti al mondo erano sua madre ed Enzo, vengono a mancare per lei, la vita non ha più significato. Ai tempi si faceva così, le donne, le eroine si sacrificavano per amore. Io sono un po' spoile a fare tutte queste strontate donne, in tutto il rapperto che io faccio anche, ma sicuramente è una delle più fortissime. Ho fatto molto di Verdi e di Puccini, e credo che è una delle più fortissime che ho mai stato in contatto con l'italiano. Ricorda un cimitero con i cipressi, le tombe. Naturalmente è una riflessione sulla morte, ma prima ancora credo che sia una riflessione sulla solitudine di Gioconda. Grazie a tutti.